Stiamo umani L'adagio con cui filmavo i miei pezzi per il manifesto e per il blog è un invito a ricordarsi della natura dell'uomo Io non credo nei confini, nelle barriere, nelle bandiere Credo che apparteniamo tutti, indipendentemente dalle latitudini, dalle longitudini a una stessa famiglia che la famiglia umana Restiamo umani è anche il titolo di questo libro che raccoglie i miei reportage scritti al meglio delle mie possibilità in una situazione di assoluta precarietà ricordo che io sono qua come attivista dell'International Solidarity Movement per cui durante i giorni del massacro eravamo una decina di internazionali gli unici presenti lungo la striscia di Gaza un po' distribuiti nei vari ospedali Trascorriamo le nostre notte prestando il nostro supporto sulle ambulanze e di giorno cercavamo in maniera molto difficoltosa devo dire dei punti internet dove riuscire a trascrivere e mandare in Italia, all'estero ciò di cui quotidianamente eravamo testimoni vale a dire una strage una strage di massa di civili i soldi sono stati convertiti dall'International Solidarity in fabbriche di angeli perché le prime vittime di questo massacro sono stati i bambini i 420 bambini uccisi più di 1500 feriti Israele vendeva la sua pubblica opinione che questa è una guerra per la sua sicurezza interna in realtà qui sanno tutti che un bambino morto crea immediatamente 5 mujahideen dopo di lui 5 uomini disposti al martiglio per riscattare queste vittime innocenti ho fatto scalpore la storia di questa bambina quando sono arrivati i paramedici della Crocevosa Internazionale curava la madre ormai morta in decomposizione da tre giorni come se fosse viva pensava che stesse dormendo aveva portato dei pomodori nelle maccevie della casa aveva riuscito a trovare dei pomodori, dell'acqua pensava semplicemente che stava dormendo immaginatevi questi traumi per questi bambini io credo che ci siano diversi tipi di resistenza c'è una resistenza armata che da queste parti non è stata molto efficace nel cercare di arrestare l'avanzata dell'esercito israeliano proprio per mancanza di armi e c'è un'altra resistenza una resistenza civile portata avanti anche in questi giorni dai contadini dai pescatori di Gaza ai contadini il giorno dopo la fine dei bombardamenti l'esercito israeliano ha dichiarato un chilometro entro il confine israelo-palestinale zona militare inaccessibile e rendetevi conto cosa significa un chilometro per una striscia di terra come quella di Gaza che in alcune parti larga solta a chilometro e mezzo questi contadini devono andare a coltivare le loro terre anche perché hanno seminato settembre o tombe era tormento della raccolta se non ci fanno perdono tutti i loro averi ci vanno su questi campi vicino al confine quotidianamente dall'altra parte jeep israeliani arrivano cecchini si appostano e bellamente feriscono uccidono questi contadini i contadini ci vanno lo stesso come i pescatori il giorno dopo il massacro israeli ha dichiarato 3 miglia dalla costa lo spazio di mare pescabile per i pescatori di Gaza 3 miglia dalla costa non c'è pesce ce n'è pochissimo è molto inquinato il mare proprio perché anche i bombardamenti hanno distrutto gli impianti idrici gli impianti di fognature l'acqua è molto sporca siamo nel periodo di alta stagione per la pesca c'è questa migrazione delle sardine dalla Turchia i pescatori dovrebbero andare a pescare a 5-6 miglia ricordo che leggi internazionali sanciscono 20 miglia dalla costa acqua a sovranità palestinese a 3 miglia la marina israeliana intercetta i pescherecci e li attacca dobbiamo Durante il massacro la prima forma di resistenza civile era rappresentata proprio dai paramedici, nonostante gli altissimi rischi del loro lavoro, ricordo che se avete filmato ci sono i danni agli ospedali di Gaza, sono tangibili, in particolar modo l'ospedale Akuz è stato attaccato, è stato dato le fiamme, è stato bombagato col fosforo bianco. I paramedici io li considero i primi eroi di questo massacro perché sapevano benissimo i rischi che andavano in conto. Se i paramedici sono stati i primi eroi subito o dopo sono i giornalisti perché anche essi erano obiettivi. Ricordo che durante il massacro l'esercito israeliano in particolare l'abiazione usava tecniche terroristiche, tecniche di Al-Qaeda, bombardava un edificio, aspettava che arrivassero i giornalisti, dopodiché scagliava un'alta bomba sullo stesso edificio e faceva stragi. I soccorritori, i giornalisti, sei giornalisti sono stati uccisi durante il massacro.